Vincent Van Gogh, il collezionista di insetti. Era un pomeriggio d'estate, due bambine e un bambino giocavano in un giardino fiorito di una fattoria. Vi erano gerani rossi, calendule, cespugli carichi di vacche. I bambini si divertivano ad arrampicarsi e a correre. Non erano molto puliti ma di certo erano molto felici. I tre bambini avevano un fratello maggiore di nome Vincent. Vincent aveva i capelli rossi, aveva una faccia strana con una fronte piena di rughe, le sopracciglia corrugate, occhi piccoli che passavano dall'azzurro al verde. Aveva un aspetto un po' sgraziato. Senza dire niente Vincent varcò il cancelletto, aveva in mano un barattolo di vetro e un retino da pesca. Oltrepassò un ponticello bianco e si recò al fiume dove catturò numerosi insetti d'acqua. Vincent conosceva il nome di tutti gli insetti. Li teneva in una scatola bianca con accanto il nome ed era un attento osservatore della natura. Studiava gli uccelli, i loro nini e la vita nel sottobosco. Vincent era un mercante d'arte, vendeva quadri e sebbene Vincent conoscesse molto bene l'arte e la pittura non era un bravo mercante, era troppo timido e goffo. Così lo licenziarono. Dopo dopo venne assunto come insegnante di francese da un vicario. Sebbene riuscisse a conquistare gli alunni più intelligenti non era un grande insegnante. Il vicario gli dè il compito di recuperare i soldi delle famiglie povere che non pagavano alla scuola. Ma Vincent che aveva un cuore buono non ci riuscì, così perse nuovamente il lavoro. Non passò molto tempo e trova posto in una libreria. Lui conosceva bene i libri e sapeva consigliare bene. Inoltre il proprietario della libreria gli permetteva di leggere tutto ciò che desiderava. La mamma e il papà di Vincent non erano ricchi ma avrebbero fatto qualsiasi cosa per renderlo felice. Vincent decise di diventare un sacerdote e di aiutare le persone povere e in difficoltà. Vincent curava giorno e notte gli ammalati. Anche Vincent però si era ammalato e il padre andò a riprenderlo per riportarlo a casa. Quando il padre vide alcuni bellissimi disegni di Vincent decise di iscriverlo a una scuola d'arte. Molti dei disegni di quel periodo rappresentavano i fiori, i fiori del giardino della fattoria dove vivevano i suoi genitori. I pennelli e i colori costavano molto e la famiglia non era ricca. Padre e figlio litigavano molto così un giorno Vincent sparì. Vincent era andato a vivere da un cugino pittore. Vincent era un acuto osservatore e non appena iniziò a dipingere la sua arte esplose. Purtroppo Vincent non riusciva a vendere nessuno dei suoi quadri. Vincent cercando sempre di aiutare i bisognosi si ritrovò presto senza nessun soldo. Così nuovamente il padre decise di aiutarlo e lo accompagnò in un villaggio vicino. Vincent trascorreva le sue giornate a dipingere. Cavalletto, foglie e pastelli erano i suoi compagni. Dipingeva i contadini nei campi e le donne intente a tessere. Un brutto giorno il papà di Vincent morì. Teodor, il fratello minore di Vincent, ammirava i dipinti di suo fratello e tentò più volte di venderli ma non ci riuscì. Ora il papà non c'era più. Teodor si sarebbe occupato di Vincent, si sarebbe occupato dell'acquisto dei colori e dei pennelli. Teodor era sposato e diede il nome di Vincent al suo primo figlio. Vincent regalò per il battesimo del nipote un bellissimo quadro che rappresentava il ramo di mandorlo fiorito. Vincent dipingeva moltissime ore senza quasi mangiare sotto il sole coccente. Di tanto in tanto stava così male da dover essere ricoverato in ospedale. Teodor era molto preoccupato per la salute del fratello. Non appena Vincent stette meglio riprese a dipingere e dipinse il bellissimo quadro dei girasoli. Vincent iniziò a dipingere tardi ma tutti gli anni passati ad osservare la natura gli permisero di realizzare in poco tempo dei bellissimi quadri ricchi di colori. In vita Van Gogh non vendette nemmeno un quadro ma dopo la sua morte le sue opere divennero famose in tutto il mondo.